Ma sicuramente entraremo più nel merito delle questioni, essendo rimasti in due rispetto ai sette candidati che avevamo prima. Poi ognuno ha un proprio stile, io non amo denigrare, non amo la rissa, amo il confronto serio. E penso che prosegueremo su questo stile, ovviamente con più determinazione, perché a questo punto c'è il ballottaggio e cambiano anche le dinamiche di una campagna elettorale, cambia anche l'attenzione da parte dei cittadini. Noi abbiamo visto un massimo seri, come diceva Marco prima, sempre molto pacato, ma anche molto sicuro di questo risultato. Ma onestamente avevo una percezione positiva, perché poi quando si parla con la gente vedevo che tante persone che non conoscevo mi fermavano per strada, mi incoraggiavano, dai che questa volta sarai tu il nuovo sindaco. Quindi respiravo questo clima molto positivo. Ovviamente non mi aspettavo un trionfo, perché effettivamente superare in una condizione come quella fanese il 40% era un risultato che nessuno si immaginava. Per cui è chiaro che questa sera c'è un grande ottimismo da parte di tutti noi, a partire da me. Ma ho ricordato ovviamente a tutti coloro che erano in piazza insieme a me che abbiamo un altro appuntamento, l'8 giugno. Dobbiamo cercare di far tornare la gente a votare, perché l'unica preoccupazione è che al ballottaggio vadano meno persone. E se non ci sarà partecipazione, chi rischia di essere penalizzato sono io. Quindi io auspico che ovviamente tutte le persone che mi hanno votato al primo turno tornino a votare anche al ballottaggio. E spero e auspico che si aggiungano anche coloro che hanno votato per altri e che invece al ballottaggio votino massimo serie. Grazie a tutti.